Ciao, sono Ginevra e oggi vi insegnerò come si fanno le bolle giganti. Qui ho un contenitore vuoto, qui ho dei bicchieri di diverse grandezze e qui ho un secchio pieno d'acqua. Questo liquido però ancora non è pronto e dobbiamo aggiungergli l'acqua che ho qua. Adesso vi insegnerò come si fa a diluire questo liquido per le bolle che si chiama megabolle. Se prendiamo questo bicchiere e con questo liquido dobbiamo prendere 9 bicchieri di acqua o 10. Se prendiamo questo che ci serve di più dobbiamo prendere questo, uno di questo e 9 di questi. Se invece usiamo questo bicchierone grande grande dobbiamo mettere uno di questo e 9 bicchieri d'acqua. Ricordiamoci che a una parte di megabolle dobbiamo aggiungere 9 o 10 parti d'acqua. Lo sapete perché ho detto 9 o 10? Perché in certe case c'è un tipo d'acqua e nelle altre case forse c'è un altro tipo d'acqua. Beh, provate voi, ce la farete. Prima di tutto dobbiamo prenderlo e schiacciarlo, agitarlo, così. Così. E poi lo aggettiamo ancora un po'. Lo aggettiamo ancora un po'. Per ora prendiamo il nostro bicchiere che vogliamo usare. Con la mano destra lo prendiamo qua, il liquido. Mettiamo il nostro bicchiere dove lo dobbiamo mettere vicino a noi. E poi prendiamo, qui schiacciamo. E ora a noi ci va bene così. Lo prendiamo. E ora noi lo versiamo qua dentro. In questa bacinella vuota. Tutto qua dentro. E ora dobbiamo aggiungere 9 bicchieri d'acqua. Prendiamo l'acqua. E ora noi prendiamo dei bicchieri d'acqua. Ora io ne prendo uno. Poi ne prendo un'altra ancora. Finché non arriviamo a 9. E l'ultimo. Che è 9. Dobbiamo fare in modo che tutti questi grumi spariscano. Vedete qua ha un gumbo? Per questo che spettiamo con una letture d'acqua. guardiamone. Per questo che... Chiome News è inserosamente una libertà di solita. E poi sul piano speciale. Per questo è sempre più rivera. Oltre al Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.